Amici e amiche di RB e torniamo in diretta da Pinerolo per Artigianato 2023, le città invisibili, questo è il filo conduttore che celebra il grande Italo Calvino. Noi siamo andati a scoprire alcune storie invisibili in questa città, la città di Pinerolo nel Pinerolese, con l'esperienza del CIS, con l'artigianato, la creatività che sa curare, sa dare una nuova possibilità a tutti e tutte. Abbiamo parlato anche di formazione con il CFIQ e adesso andiamo a parlare, parliamo insieme anche a voi amici e amiche che siete in collegamento su RB Radio, RB TV e sul web, andiamo a parlare di creatività, l'importanza della creatività e perché vogliamo essere creativi nonostante un altro lavoro, un'altra attività, perché abbiamo questa necessità. Ne parliamo con due amiche che è un piacere ritrovare dell'Opificio 121, Alessia Corso, ciao Alessia e Silvia Mezzanatto. Ciao Silvia, ben arrivate su RB e bentornate in realtà. Abbiamo parlato del valore, dell'urgenza della creatività, voi da diverso tempo organizzate come Opificio 121 la parte dedicata agli ubbisti e alle ubbiste qui all'artigianato, oltre ad altre attività e durante altri momenti dell'anno. Secondo te Alessia, anche tu insomma sei una creativa, vero? Sì, diciamo così. Lo ammetto a vostro onore. Ecco, perché secondo te abbiamo questa esigenza, questa urgenza? Abbiamo un lavoro, abbiamo tante attività, abbiamo la nostra quotidianità, poi abbiamo bisogno di crearci una stanza tutta per noi, parafrasando qualcuno. Secondo me c'è anche tanto bisogno di vedere il bello. Ah, perché magari non lo vediamo normalmente? Secondo noi sì, è molto difficile, soprattutto nell'ambito dell'artigianato proprio, dove invece è fondamentale che venga fuori. E quindi le persone, anche in una società come la nostra, dove c'è un acquisto compulsivo spesso, no? Si compra tanto senza dare attenzione. E' anche molto facile essere compulsivi, no? Basta andare a cliccare un tasto su... Esatto. E quindi c'è proprio il bisogno e la ricerca di ritrovare il bello. E nell'artigianalità questo viene fuori, perché c'è l'unicità di tutti, la creatività di ognuno. E quindi è importante per noi. Creatività è bello, Silvia. Noi però, con gli amici del CIS, poco fa abbiamo parlato di ceramiche, però non necessariamente del bello. Anche perché il bello è relativo, lo sappiamo bene. Quanto è importante in realtà realizzare degli oggetti, dei manufatti e dire questo l'ho fatto io. Insomma, è anche... questo immagino che vi sia capitato in più di un'occasione organizzando mani creative qui a Pinerolo, per esempio. Sì, diciamo che il prodotto artigianale porta con sé un'energia, che non è il prodotto di serie della fabbrica, ma è l'energia che la persona mette nel pensarlo, nel progettarlo e nel farlo. Quindi anche lo stato d'animo che si porta presso, la concentrazione che ne deriva, il poterci stare dentro in quella concentrazione o meno. Quindi, quando io compro un oggetto di questo tipo, che vedo in una delle bancarelle o nelle tante bancarelle, compro anche tutto quello che c'è stato prima? Sì. Può essere una strada, però. Assolutamente, e tutto quello che c'è stato prima non è solo la formazione o qualcosa così di intellettivo, di cognitivo, ma è proprio un lavoro interiore, uno stato emotivo. C'è molto all'interno di un prodotto artigianale, artistico, pensato e fatto a mano. Ok, quindi è un po' lo zen e l'arte della ceramica, delle mani creative o della ceramica, in questo caso. Silvia, tu, oltre a far parte di Opificio 121, sei anche ceramista e qui con noi hai portato delle ceramiche. Posso darti una mano? Grazie. Allora, prima fuori onda mi hai raccontato la storia di questo oggetto che ho tra le mani in questo momento e cerco di descriverlo a chi ci sta ascoltando in radio. Si tratta di una ciotola, è ceramica? È in gress. In gress, subito, avevo il 50% di possibilità. È in gress, cos'è il gress? Il gress è un... Stai parlando all'uomo della strada in questo momento. Ok, è un tipo di ceramica, via, che però ha una composizione chimica diversa che vetrifica a 1250 gradi, quindi diventa molto più robusta e anche impermeabile. Prima mi dicevi, fuori onda, che in realtà questo non è un oggetto tra virgolette, tante virgolette, perfetto. Esatto. Perché? Però ti piace e l'hai messo lì in bella vista. Sì, è il mio preferito. Voglio per questo, perché non è perfetto. Eccolo qua, lo mostriamo per chi ci guarda in questo momento in tv. Adesso non so se sarà visibile dalla tv, però... Ma noi faremo del nostro meglio. Ok. Ed è peggio pure. Racconta, racconta. Ci sono dentro dei granellini bianchi che in realtà sarebbero un difetto dello smalto. Quindi un difetto di produzione diventa un pregio. Assolutamente sì. E infatti smatto per farlo venire, quel difetto lì, perché mi piace molto. Ha anche un gradino, scusa, detta proprio facile. Sì, sì, ha un gradino, quello è fatto apposta. Hai fatto apposta? Sì, ahimè. Va bene. Quello l'abbiamo fatto apposta. Benissimo. Quindi la creatività sa essere una cura per tutti e tutti noi, anche se magari non abbiamo bisogno di una cura. Prima abbiamo parlato con gli amici del CIS e sappiamo quanto è importante la creatività per chi appunto è disabile. La creatività riguarda anche persone che hanno, soprattutto, hanno magari un altro lavoro e vedono nella creatività una possibilità nuova. Certo, uno sfogo. Vi capitano di queste storie durante... Sì, la maggior parte dei nostri espositori e espositrici lo fanno per passione. Lo fanno come secondo lavoro. Alcune vorrebbero che diventasse un lavoro vero e proprio, altri invece scelgono proprio di dedicare il tempo libero che hanno dalla famiglia, dal lavoro, anche organizzando, partecipando agli eventi, mercatini. Quindi, che è un altro lavoro, però, è passione. Quindi, è bello. È bello. Abbiamo 24 ore, 8 si spera di dormire. Poi c'è il lavoro, altre 8 ore. Sono 16. Abbiamo ancora 8 ore. C'è la famiglia, ci sono gli impegni, c'è il divertimento. Insomma, bene che ci sia. Quindi, lo strappare del tempo per creare... È curativo. Ah, diventa una cura, quindi? Sì, assolutamente, assolutamente. Quando trovi la tua strada e il tuo modo di comunicare, di esprimerti, sicuramente è curativo, certo. La famiglia del creativo o della creativa. O sono tutti creativi, oppure come si comporta? Chi sta insieme a una persona creativa? Eh sì. Poi la stella. Anche lei, anche lui, ha bisogno di tempo, pazienza e attenzione. E cura. E cura pure. E tendenzialmente il creativo o la creativa si destreggia moltissimo. Molto bene. Sempre multitasking. Moltissimo. Quindi, compagni e compagne di persone creative, abbiate pazienza. Magari, insomma, sostenete. Siate i primi tifosi, no? Vero? Sì. Non è sempre facile, però. Perché, appunto, è un prendersi cura di sé e nel prendersi cura di sé in realtà poi si stabiliscono delle modi di stare, di essere e un benessere che poi può essere portato anche in famiglia. Oh, avete capito? Ecco, mi ha parlato proprio a voi in questo momento. Alessia, hai parlato prima di hobbisti e hobbiste, hanno un altro lavoro. C'è chi ha deciso nel corso degli anni di mani creative, insomma, di tante edizioni di artigianato dedicate all'hobbismo. Hai trovato storie di persone che hanno detto, sai cosa? Basta. Adesso faccio solo questo. Sì, assolutamente. Assolutamente. Hanno aperto partita IVA? Hanno aperto partita IVA con tutte le difficoltà di aprire una partita IVA, gestire una partita IVA e campare, ecco. Un applauso a chi ha aperto la partita IVA! Bellissimo. Ragazzi, non è facile. Tutta la nostra stima. Massimo rispetto a chi ha aperto la partita IVA, Silvia. Soprattutto d'artigiano. Soprattutto d'artigiano. Soprattutto d'artigiano. Adesso, per chiudere il nostro intervento, sempre parlando di ceramica, a me viene in mente Ghost, David Moore, l'amico Patrick Swayze, la scena meravigliosa di creare... Vabbè, allora, a me è venuto in mente in realtà un altro aspetto. Come si chiama? Tornio? Tornio. Tornio, perché torna, cioè gira. È diverso dal tornio del falegname. Da qui il nome, è un'altra cosa, insomma. Mi viene in mente un'altra cosa, perché abbiamo parlato di imperfezione, di bello, cos'è il bello, chi lo sa, è molto relativo. Ecco, anche, insomma, il far ceramica, il lavorare con la ceramica, quindi acqua e terra assieme, fondamentalmente, elementi molto basilari. Il perfetto, in realtà, il centro, trovare il centro di cavità permanente, over and over again, come diceva Battiato, anche quello, insomma, è la cura. Assolutamente, assolutamente, il motivo principale per cui io personalmente faccio ceramica è questo, perché avendo una mente che lavora un sacco, il fatto di... Auguri! Infatti, doverti mettere al tornio e essere presente, perché il tornio ti becca subito se ti distrai. Perché, ad esempio, fammi capire. Bisogna lavorare il pezzo e essere lì, non si può pensare ad altro, è proprio una quasi meditativa come pratica, no? Poi è molto bello farlo anche in coordinazione con il respiro, in modo molto curativo, ma se ti distrai, il pezzo sgarra, cioè, non c'è versa. Quindi comincia a girare sul tornio tutto storto e... Sì, cioè, succedono diversi patatrack, dipende poi dalla velocità a cui vai, no? Quindi splat in giro. E questo, l'altro allenamento del tornio è anche il fatto che la perfezione in realtà non c'è mai e che il pezzo si può spaccare, si può rompere in cottura, si può seccare male. Ci sono talmente tante variabili che una delle prime cose che impara un ceramista o una ceramista è lasciare andare il proprio pezzo. Vedi che alla fine è terapeutico, c'è te lo zen in tutto ciò. Assolutamente. Quindi noi, Alessia, quando compriamo questo oggetto, so che, insomma, avete qui con voi a Pinerolo artigiani e artigiane di ogni genere, dalla sarta al sarto, chi lavora la carta, chi lavora, insomma, tante ceramiche. Il legno, molte ceramiste, sì. Quasi tutte donne, tra l'altro. Davvero? Quasi tutte donne. Pochi uomini hobbisti. In genere più donne, sì. Vabbè, chissà perché poi, perché non sappiamo metterci in gioco, noi, no? Credo che ci sia un fattore culturale legato all'espressione di sé, alla espressione emotiva di sé, per cui gli uomini tendenzialmente rimangono culturalmente più bloccati in questa cosa, perché ovviamente la cultura non si porta. Ma quante cose stanno succedendo in questa chiacchierata oggi qui? An artigianato Pinerolo, stiamo facendo un gruppo di mutuo aiuto, ecco. Ok, abbiamo in mano questo oggetto, abbiamo cercato di raccontarne la storia, dietro a una ciotola come questa che ho in mano, in questo momento in realtà c'è tutto un vissuto, c'è un know-how, diciamolo così, usiamo questa parola bella, insomma, c'è una storia dietro che ha portato all'organizzazione di questo lavoro, tanti sbagli, tante interruzioni, interruzioni, ma anche poi prende e si riparte, si ripara. Vedi, quindi c'è una storia incredibile dietro questo oggetto e tutti gli oggetti creativi, la creatività sta ad essere davvero curativa, sta ad essere un mezzo che ci dà molto. Ultima domanda riguardo all'Opificio 121 Alessia, so che siete tutte donne o sbaglio? Sì. Perché questa scelta? No, non è una scelta. Torniamo al discorso di prima che è un fattore culturale. Sì, probabilmente sì. Dove troviamo le indicazioni, le informazioni sulle vostre iniziative? Sì, sulla nostra pagina Facebook specifica Mani Creative e ci saremo poi penso di nuovo a Natale, con i nostri perfettini natalizi e lì troverete tutte le informazioni. Abbiamo avuto il piacere di presentare l'attività creativa, quanto la creatività sappia essere davvero curativa, insieme ovviamente all'artigianato. Abbiamo avuto con noi Alessia Corsu che ringrazio, Silvia Mazzanato che ringrazio ancora. Io vi auguro ancora di voler essere creative e quella leggerezza necessaria. Lo diceva sempre Italo Calvino che stiamo celebrando quest'anno per l'attigianato Pinerolo. Ciao Silvia, ciao Alessia, buon lavoro. Ciao Claudio, grazie.